L'associazione culturale Polimnia ha scelto il Duomo di Cosenza per il concerto di Pasqua. L'evento, dal titolo Il Divino in Musica, che fa parte della rassegna I luoghi, la storia, la musica, ha superato tutte le aspettative del numeroso pubblico, che per oltre un'ora è stato letteralmente rapito dalla suggestione delle note di Bach, Frank, Mari, Mascagni, Mozart, Tosti, Schubert e Verdi. Eccezionale il cast di artisti, che ha visto come protagonisti il soprano Sara Baratta e il tenore Stefano Tansillo, che, accompagnati dal maestro Andrea Bauleo al pianoforte, hanno spaziato in un vasto repertorio di musica sacra. A completare il prestigioso cast è stato il coro Francesco Cilea di Reggio Calabria, diretto dal maestro Bruno Tirotta. La conduzione della serata è stata affidata a Rosa Cardillo, che in apertura ha invitato sul palco la presidente dell'associazione Polimnia, Luigia Pastore, la quale, oltre a ribadire la mission della rassegna, ha dato il benvenuto alle tante associazioni culturali cittadine presenti, che hanno accolto con entusiasmo l'invito e confermato la bontà dell'ambizioso progetto culturale.